eccomi in arrivo da 750 chilometri tra speciale trasferimento l'undicesima tappa è finita ne manca ancora una e volevo comunque salutare e ringraziare tutti quelli che da casa mi stanno sostenendo e in particolare il gruppo Valsabia News Ubaldo e tutto lo staff e gli amici di Valsabia News e ci sentiamo domani